La sede dell'Inps stanno per partire almeno 200.000 lettere a pensionati che dovranno restituire la 14esima percepita nel lontano 2009. Sono stati riscontrati errori nelle autodichiarazioni presentate in quel periodo. Lo conferma stamane l'Inps e la platea dei pensionati di oltre 200.000 persone. Sono quelli nella fascia di reddito più povera che dovranno restituire all'Istituto di Previdenza tra i 300 e i 500 euro a seconda dei singoli casi. Arriveranno così nelle casse dell'Inps circa 80 milioni di euro. In che modo dovranno restituire la pensione? Però ancora poco chiaro e non mancano le polemiche. Per ora il presidente dell'Inps, Mastra Pasqua, sottolinea che solo incrociando i lati con quelli dell'Agenzia delle Entrate è stato possibile verificare questi errori e l'Istituto si incontrerà con i rappresentanti delle categorie per trovare il modo migliore di effettuare le trattenute sui pensionati. La norma della 14esima risale al 2007 quando il governo Prodi approvò un decreto per erogare un bonus per quei pensionati con redditi inferiori a 8.504 euro l'anno. C'è coloro con pensioni da 655 euro al mese e con almeno 64 anni di età. Un provvedimento che si basava sull'autocertificazione e riguardava circa 3 milioni di persone.